L'arrampicata verso Campitello, questo è l'uomo Colombo, e l'inseguimento di Carletto Chiappano che se n'era andato e che proprio in questo istante viene raggiunto da Colombo. Dalle spalle dei due ci schiamò, Chiappano e Colombo proseguono, soli verso il traguardo. Ecco Colombo, e Carletto Chiappano in maglia Sanson. E la fuga vincente è un momento in cui Eddie Merckx concede spazio ai piccoli. Guardate lo sprint tra i due ed è Carlo Chiappano che se la giudica davanti a Colombo. E sa quello che fa e sa quello che vuole, soprattutto lo sa fare nel momento giusto, e questo è molto importante. Ed eccoci ormai in vista del traguardo. Unico dubbio, chi vincerà? Allora siamo a 3 km dalla conclusione. Ecco, Beccia dicevo prima è aggrappato. Sempre Beccia in prima posizione. Ora in uno a fianco, io lancio lo sprint. Lancio lo sprint in o. Ed è in o che vince. Allora, vittoria è primato per Bernarico. Secondo è Beccia. Certo spagnolo a Campitello Matesi. Vince il battista Alberto Fernandes. Campitello Matesi, 137 km. Chiaccioli, Franco Chiaccioli. Chiaccioli è riuscito a staccare. Non bravamente, giustamente, Vito Tacconi, l'eroe dell'Abruzzo. L'abbiamo visto grazie ai servizi di Maurizio Balmone. Poi anche Ciopponi. In questo gruppo colore evidentemente si è ripreso in ritardo. Invece anche là. Ecco, Chiaccioli. Buona a 28 secondi. Allora, ecco, Chiaccioli. A 16 secondi, lo sta pulitendo. In fondo al retilineo. Ecco, Chiaccioli. Il sboccano Franco Chiaccioli vince questa prima importantissima tappa in condizioni atmosferiche veramente terribili invernali nostro in tante. Anzi, lo stato tante del terzo superman del nostro intero. Il terzo è sempre in camponato. Berge, che è il creduto con che era 24 anni, è stato capione nel mondo dell'intendimento da diventate. In quest'anno, visto tra l'altro la 10, passola 10, ma è stato tutto ciò che è rimasto con il gruppo di bugia di Turai. Poi, quando la maglia rosa ha aperto terreno, è scattato all'insedimento di Oscar Petticcioli, il giovane Bergamasco che ha ripulato 30 km e il primo a tutti i 3.000, il ricazzo, Bartoli, Fontanell, Buccia e Bucullon, poi da solo nel ultimo 15 km. Per finare il giusto di Tuccioli, il ultimo chilometro per poi passare in Bolaza. Il terzo è stato un progetto di Tuccioli, il terzo è stato un progetto che è un progetto di Tuccioli, il corretore intercalato sono i ragazzi i casagrande vittor gonzález il solitario grazie la ultima turba a la derecha e poi c'è una base abierta una S hacia la izquierda e già tiene che andare a casa grande va a ganare la etapa però a base di chupare rueda però no è nada ilegalista e poi c'è la rancada de casa grande trattava di superare per il interior a Gilberto Simoni e allora sta no se rinde Gilberto Simoni che spritz più bonito tra i due precioso se lo merece Simoni se gana io prefero avermi equivocato e ganò me gusta avermi equivocato perché Simoni solo ha merecido perché ha tirato molto più e pericotti e poi c'è un giro e questo è il risponso di Contador e quello di Ritchie Portney ha bisogno di questo non ha bisogno, 5 km per andare è un grande beat up, è quello che eravamo e il ragazzo è un ragazzo di fronte per Edditt's quick step ma è un ragazzo, è un ragazzo che ha bisogno di digne ha bisogno di guardare il ragazzo e si ha bisogno di guardare il ragazzo e si ha bisogno di guardare il talento che è sicuramente bisogno di designare questo titolo guardare il ragazzo, è un ragazzo è un ragazzo, questo è il drive e il ragazzo è un ragazzo, è un ragazzo è stato un ragazzo, ma è un ragazzo e non è stato bese un ragazzo ma questo è un ragazzo 3.4 km per andare e ora è un ragazzo, è solo un ragazzo è un ragazzo, è un ragazzo ma i suoi leggeri sono state facendo una ragazzo 55 secondi, dopo la volta per il ragazzo, gli ultimi ragazzo e se riesce un ragazzo, e magari un ragazzo, è magari un ragazzo e questo è quello che è pensato Grazie a tutti